ciao bella gente e grazie di tutto qualcuno mi ha scritto perché ci chiamiamo la nostra africa 4x4 che mettiamo video del caucas e dell'asia giustissimo completamente giusto la nostra africa 4x4 è nata trent'anni fa quando ci siamo uniti nella nostra vita e abbiamo cominciato a girare per l'africa abbiamo cominciato con tunisia algeria egitto libia marocco niger per passare poi nel meridione dell'africa zambia zimbabwe bozzuana namibia tanzania del nord tanzania del sud ecco perché ci chiamiamo la nostra africa 4x4 perché è nata da lì fuoristrada 4x4 sacco pelo tenda e abbiamo girato tutta l'africa adesso abbiamo girato il caucaso e sicuramente fra non molto torneremo in africa guardatevi il video che adesso segue il riassunto della nostra trafrica 4x4 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 5x4 5x5 5x5 6x4 6x5 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.